Barone Vassallo, siamo al 26 agosto 2024. Ieri è stato molto interessante aver fatto il video su Pavel Durov ed è stato molto interessante anche quello che voi mi avete scritto sotto ai video e mi avete rivelato di questa persona. Ho fatto un pochino di ricerche. Ho fatto un pochino di ricerche anche perché quest'oggi hanno incriminato anche l'amministratore delegato di Rumble. Ma perché questi due personaggi li hanno incriminati? Hanno un filo conduttore entrambi, sono entrambi legati alla Russia. Andiamo a vederlo. Allora, le forze dell'ordine accusano il CEO di Telegram di non aver verificato, non aver fatto controlli e moderazioni sulla piattaforma Telegram. Quindi Pavel Durov gli vengono mosse queste accuse perché si dice che quotidianamente su Telegram ci sono delle ombre della difesa della libertà. Questo è quello che dicono loro. Notizie frammentarie arrivano da Parigi dove si apprende dall'emittente francese TF1 che è finito agli arresti Pavel Durov e questo l'abbiamo già commentato a ieri. Fondatore CEO di Telegram, il cui però qui nascono un pochino di cose che lasciano perplessi. Allora, Pavel Durov ha una fortuna stimata pari a 15,5 miliardi di dollari. Era appena afferrato all'aeroporto parigino dove la gendarmerie lo ha fermato. Il 39enne Magnate, sulla base di un mandato spiccato a seguito di una richiesta della magistratura d'Oltralpe, quindi francese, viene accusato di consentire troppa libertà di azione a chi intende utilizzare le chat di Telegram e quindi sarebbe complice di attività illegali di vario genere, anche traffico di droga e frodi. La sua presenza sul territorio francese era stata da tempo tenuta... Ehm, pardon, scusate, mandato nei confronti di Durov e alla sua presenza sul territorio francese, dal quale si era tenuto alla larga, oltre che alla larga dall'Europa, viaggiando soltanto tra Arabia, Sud America e paesi dell'ex Unione Sovietica. Questa sera ha commesso l'errore di sbarcare oltralpe. Ma... Sentite un po' quanto sono assurde le notizie che riportano. Pavel Durov, al contrario dei ragazzi geniali del web ed oltreoceano come Zuckerberg e Elon Musk, apparentemente sembra schifo e riservato. E col tempo si è capito che la sua è una posa studiata per dare fascino e spessore al personaggio, ammantandolo con un alone di mistero e segretezza. Infatti, lui va spesso in giro incappucciato e quando si esibisce, mette in prima... mette in... esibisce i propri muscoli a torso nudo, apparentemente in modo satirico. Addirittura lanciò l'hashtag Putin shirtless challenge per prendere in giro il presidente russo che si faceva spesso ritrarre senza maglia. Non disdegna nemmeno di apparire in pubblico, con maglioni a collo alto neri che rimandano inevitabilmente a Steve Jobs. non solo, recentemente ha fatto sapere di essere diventato un po' per caso donatore di sperma e di avere cento figli biologici in giro per il mondo. Insomma, praticamente lo stanno dipingendo, grossomodo, come un pazzo, come un eclettico, una persona che non ha assolutamente delle briglie e dei freni. la sua ossessione per la libertà di parola, che lo aveva messo nei guai in Russia, rischia di costargli caro pure nel vecchio continente, dove si attende di conoscere l'esatta portata delle accuse con le quali gli inquirenti intendono portarlo alla sbarra. Durov aveva dovuto lasciare il suo paese nel 2014, quindi la Russia, per chiudere la comunità di opposizione sulla piattaforma dei social media VK, equivalente russo di Facebook, del gruppo Meta, aperta nel lontano 2006, e dopo di questo è scappato in occidente e aveva rivelato di essere stato costretto a vendere le sue azioni di VK. Qui si parla delle sue dichiarazioni, preferisco essere libero piuttosto che prendere ordine da qualcuno, aveva dichiarato nelle rarissime interviste concesse, e l'assenza di regole di Telegram, app lanciata nel 2013 assieme al fratello Nicolai, l'ha reso però il perfetto refugium peccatorum online di un numero imprecisato di cibercriminali che quotidianamente la utilizzano per i propri loschi traffici, che includono anche lo scambio di materiale pedopornografico. Insomma, parliamo un attimo di questa persona. Si parla poi del fatto che lui risulta nulla tenente sulla carta, anche se ha un patrimonio di 15 miliardi di dollari, ha criptovalute, oro e di tutto il resto. Va in giro con Jet e Yacht, però affitta un oleggia. Insomma, parla anche del ruolo che ha avuto nel conflitto tra Russia e Ucraina, e insomma tutte queste cose qui. Allora, io adesso vorrei un attimo soffermarmi su questo fatto. Allora, Durov è sicuramente una persona che ha un capitale immenso. Da che mondo è mondo? Ma non solo in Italia, credo un po' dappertutto. Il pesce grande non si imbriglia nella rete, ma la sfonda. Da che mondo è mondo? È così. Capisco che Durov ha legami con la Russia, come lo ha quell'altro di Rumble. E in questo momento debbono, come già più volte vi ho detto, ricominciare l'autunno caldo e l'inverno ancora più caldo che vedremo davanti a noi. Non lo so. Ritengo l'arresto di Durov e l'inquisizione del numero uno di Rumble qualcosa di costruito a tavolino. Anche perché, e fate molta attenzione, in inglese, in americano, ci sono notizie, potete andarle a vedere sul web, non ci sono in italiano, non ci sono in francese, non ci sono in altre lingue, soltanto in inglese e se non sbaglio in cinese. Lo vedete sul web. Sembrerebbe che il signor Durov era anche presente al WEF, World Economic Forum. E io sostengo che chi è presente al World Economic Forum non è contro. È soltanto una pedina che deve sponsorizzare la pluralità di idee ancora possibile, che deve sponsorizzare il fatto che non si va contro all'autorità costituita, ma lui, io sostengo, ne faccia parte. Ditemi cosa ne pensate. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.